No, Fantuzzi, questa è tutta roba per te. Eh, tutta pubblicità, scan, servo un cazzo. Io butto via tutto, guarda, butto via tutto. E sa me che sono in giro, sembro Babbo Natale. Eh, lo so. Sopra che caldo che fai oggi. Me la dai una spumina al ginger? Eh, ma noi qua serviamo solo i compagni. Tu sei iscritto al partito. Il padre a casa ce l'aveva la bandiera rossa, penso proprio di sì. Ah, sì? Allora, dim beni. Chi è il chelò? Ma so, c'è Carlo Marx. Carlo Marx, il fondatore del comunismo. Ma un grande filosofo. Ma sai cosa c'è? È che tu passi troppo poco tempo qui alla casa del popolo. Ecco che cosa c'è. Se tu ci stessi di più, queste cose le sapresti. E sai cosa c'è? Che la spuma al ginger... Antra Dagming! Ciao Tonelli. No, Fantuzzi, questa roba per te. Non c'è che umilità che c'è fuori. Lo sai cosa mi berei adesso? Un bel ponce al mandarino caldo però. Ah, sì? Dimmi, Mobein, chi è quello là? Su, dai. Guarda. Io su qualche maglietta l'ho visto, però adesso il nome mi sfugge. Ah, gli sfugge il nome, gli sfugge. Ma quello lì è Che Guevara, un grande guerrigliero. Ha fatto tanto per il popolo cubano. Sai qual è il problema, Tonelli? È che tu qui alla casa del popolo ci vieni troppo poco. Se tu ci venissi di più, queste cose le sapresti. E allora ti berresti anche il tuo bel ponce al mandarino. Perché me? A tal fuck braise. Vediamo un inverno freddissimo questo, eh? Eh. La bolletta della luce. Lo sai cosa mi berei adesso? Un bel vov caldo. Vov caldo che... Un attimino. Sai che questo? Mai visto. Lo sai perché non l'hai mai visto? Perché te stai troppo qui alla casa del popolo. Se restassi più a casa tua sapresti che questo è quello che tromba tua moglie. Buon Natale, Fantuzzi!